segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te senta questa iniziativa ipotizzata commissione europea di modificare la data di scadenza su alcuni alimenti no la commissione vorrebbe inserire nell'etichetta di alcuni cibi la dicitura spesso buono oltre piuttosto che da allora il preferibilmente entro rimane che vuol dire che non è una data di scadenza ma un consiglio un termine di conservazione oltre il quale non fa male ma le caratteristiche organolettiche di sapore eccetera ci possono essere o no quindi è una forma per sensibilizzare il consumatore che ha difficoltà enormi perché abbiamo perso il 6 per cento di consumi di prima necessità ma soprattutto delle famiglie meno abbienti e quindi si dice prima di buttare via uno yogurt a tre ore dalla scadenza una bottiglia di latte a lunga conservazione a un giorno dalla scadenza assaggio prova perché nel 90 per cento dei casi eviti uno spreco allora appena arrivato a un inizio